Ciao, siamo giunti alla fine di questa terza giornata. Oggi è stata una giornata veramente impegnativa e molto tosta per tutte le persone che hanno partecipato perché ci sono stati degli smottamenti emotivi di grandissima entità. Queste anime di amante sono state veramente molto molto coraggiose perché si sono concesse di andare veramente in profondità dentro di loro. Si sono concesse di attraversare anche delle situazioni di grande sfida, di grande dolore perché hanno compreso che altrimenti sarebbero rimaste tutta la loro vita in una situazione che magari non le permetteva, non permetteva loro di fare il passaggio il passaggio che darà loro la possibilità di andare veramente verso se stessi. A volte nella vita è importante fare delle scelte e molto spesso queste scelte non sono scelte di comodo se si vuole veramente proseguire in un modo diverso rispetto al cammino che si stava facendo e che magari si scopre non appartenerci. E quindi se non si ha questo coraggio il passaggio non si fa. Quindi è stata una giornata veramente molto impegnativa e infatti siamo tutti molto stanchi e molto felici. Abbiamo anche avuto il terremoto, sì, ma è stato molto metaforico il terremoto che abbiamo, almeno come l'abbiamo vissuto noi perché è stato proprio un terremoto interiore che poi alla fine si è manifestato anche a livello fisico e quindi tutto in realtà, se ci permettiamo, ha veramente un senso. Oggi tra l'altro è stata l'unica giornata in cui ha piovuto e questa pioggia è stata proprio una pioggia che ha lavato via un sacco di cose un sacco di cose se ne sono andate e tutte queste anime oggi brillano molto più di ieri e con questo vi saluto. Buonanotte a tutti. Ciao!